E' arrivato il momento di svappare, svappo me! La monotonia però viene spezzata dalla prima incursione ospite. Peccato per l'inguaddabile destro di Caliano, che vanifica la buona chance creata. Tiro cross del Baiano dalla sinistra, che mette in difficoltà il portiere sull'intervento, che per evitare la sfera cerca di dilungarsi e evitare l'incrocio dei pali. Azione simile qualche minuto dopo, sempre con il Baiano pronto a provarci, direttamente su azione di calcio d'angolo. Anche questa volta è ottima la copertura del portiere, che si copre sempre in calcio d'angolo. Il Baiano continua ad azione da fermo. Falco questa volta disegna una traiettoria insidiosa per l'intervento del portiere, che deve distendersi per evitare il gol. L'occasione più nitida dei padroni di casa arriva grazie a Di Meo. L'esterno riceve palla, riesce a districarsi da diversi avversari, ma nell'esecuzione dal limite il suo tiro sfiora solo il palo. Si chiuderà così la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Nella ripresa sono gli ospiti a crederci di più. Il salvataggio di spirito sul contropiede biancazzurro è fondamentale, quando i Granata, protestando per un presunto rigore non concesso, lasciano spazio ad un'offensiva, che viene vanificata grazie all'uscita dell'estremo difensore. Sarà sempre spirito ad evitare il peggio, quando all'esterno del Serino cerca nuovamente la porta, con un velenoso tentativo. Ancora una volta, l'estremo difensore è costretto ad allungarsi quanto basta per deviare in corner. Per i padroni di casa, i vanni tentativi di sbloccare il risultato risulteranno inutili a 10 dal termine, quando sul lancio lungo del Serino arriva lo svarione difensivo, che permette a velirli di involarsi verso l'area di rigore, superare il portiere e siglare così l'1-0. Il Baiano proverà con tutte le forze a riequilibrare una gara che si è messa difficile, ma il raddoppio del Serino arriva con facilità, ed è solo una formalità per velirli di siglare la doppietta personale. Con i Granate in bambola, il trist di Gentilda Silva arriva facile, con il tap-in a poco più di un metro dalla linea. Cala così il sipario su una gara che consegna un'iniezione di fiducia per i colori bianco-azzurri, mentre conferma il periodo nero-granata, che è relegato momentaneamente fuori dalla corsa play-off. Siamo qui con Santo Mazzullo, mister del Serino, che oggi è riuscito nell'impresa di sbancare, bello fatto, una vittoria per 3-0 meritata. Sì, penso che il risultato non fa una piega, anche perché il primo tempo se chiudevamo sul 2-0 abbiamo avuto due occasioni inibite davanti alla porta, però il risultato sì è importante, abbiamo vinto anche perché è da tanto tempo che non vincevamo una gara. L'ultima partita abbiamo vinto a San Severino, abbiamo solo pareggiato, abbiamo perso. La squadra ha dimostrato di essere viva, dimostrato di avere carattere, ha dimostrato che non merita assolutamente quella classifica che ha. Adesso ci siamo messi a 12 punti. Sono orgoglioso, lo posso dire forte, sono orgoglioso di essere allenatore del Serino per la squadra, per il presidente, per il presidente Trotta e Pegorino. Sono orgoglioso veramente di essere, oggi lo posso dire, sono orgoglioso di essere l'allenatore del Serino. Infatti la squadra ha dato una differenza soprattutto nell'approccio iniziale, era più in gamba, lottava su ogni pallone, questo può fare la differenza anche nel procedimento del campionato per una vittoria che dà comunque morale e fa salire la squadra in classifica. Sì, sì, noi in settimana la partita l'avevamo preparata proprio così, avevo visto delle immagini del Baiano, Baiano è una squadra che è una buona squadra, però se viene attaccata va tanto in difficoltà, l'abbiamo preparata così, siamo riusciti a fare quello che in settimana avevamo provato, abbiamo vinto meritatamente e adesso ci godiamo questa bellissima vittoria oggi e domani e poi da martedì penseremo alla partita di domenica prossima.